Davanti alla Corte d'Appello di Trieste si è chiusa la vicenda giudiziaria con un concordato per Emanuela Petrillo, l'ex assistente sanitaria accusata di non aver inoculato i vaccini tra il 2009 e il 2017 a circa 8.000 bambini fra Veneto e Friuli. Si dimezza dunque la pena inflitta alla donna in primo grado, che passa così da 8 anni e 6 mesi a 4 anni di reclusione. Penso faremo l'affidamento ai servizi sociali, quindi poter continuare a avere una propria vita di relazione libera e considerando che ogni 6 mesi avrà 45 giorni di buona condotta, di fatto terminerà questa pena in libertà in 3 anni. Soddisfatto l'avvocato Paolo Salandin, legale della 37enne mamma di due bambini. Alla fine la Procura Generale ha visto in maniera più sobria rispetto alla Procura Territoriale di Udine la questione, considerando che di fatto danni a persone non ci sono stati, bambini non ci sono stati, nessuno ha avuto un morbillo piuttosto che una pertosse, quindi è stata un po' rivista la posizione. Inizialmente Petrillo era stata accusata di peculato, omissione di atti d'ufficio e falso ideologico. Nel tempo alcuni capi d'accusa erano però caduti in prescrizione. La Petrillo ha comunque ammesso le proprie responsabilità, spiega l'avvocato Fabio Crea, legale dell'Ulse 2, marca trevigiana. C'è soddisfazione perché la dottoressa Petrillo ha ritenuto di rinunciare ai propri atti di impugnazione, ai propri atti d'appello, quindi sostanzialmente ammettendo la propria responsabilità. E questo è certamente un punto molto importante a favore delle aziende sanitarie. Sono stati esclusi i reati ormai perscritti, soprattutto quelli commessi quando era dipendente dell'Ulse di Udine, mentre sono rimasti in piedi quelli della Ulse commessi quando era dipendente dell'Ulse trevigiana. C'è stato un accordo della Procura Generale per il riconoscimento alle attenuanti generiche e da qui la riduzione della pena. La Corte dei Conti del Veneto aveva già condannato la ex assistente sanitaria a pagare in favore dell'Ulse 2 circa 80.000 euro tra il danno diretto rappresentato dal costo che l'azienda sanitaria ha dovuto sostenere per la ripetizione dei 1.158 vaccini della campagna di richiamo e il danno patrimoniale da disservizio.